Ocordi, un vincito, un grande, un rio, e una massa grande, oi figlio! E chiudiamo, ragazzi, con le quattro parole magiche, tutti insieme, e lo facciamo a fare con l'audio, pronti? Forza, vecchio, cuore, granata! Grazie ragazzi, grazie a tutti, uno di noi è il primo, E Claudio è uno di noi, uno di noi, e Claudio è uno di noi!